Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla E siamo tornati su Naruto X Boruto Shinobi No, non Shinobi Strikers Ma siamo su Ultimate Ninja Storm Connection Ancora non me lo sono imparato sto titolo Perché ragazzi è lunghissimo Però vabbè Avete sicuramente visto dalla miniatura Stiamo proseguendo Sto registrando Questo terzo episodio Praticamente subito dopo aver registrato il secondo Quindi bando alle ciance E vediamo cosa ci aspetta ora È stato 5 mesi No, non ci siamo stati sicuri Sì, ricordatevi che Tegusei lo scopo dei ninja e lo scopo dei dati da scopo quando si fuori. Ma inoltre, abbiamo scopo che ha scopo un altro obiettivo. Cosa? La storia dei Stati 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 è scopata dalla biblioteca. Cosa è? È una scuola che liste le persone che sono scopo durante il periodo Stati Stati Stati. La storia è stata scopata perché sono scopata, e le locazioni dove si fuori. Questo è vero. Continuiamo la scopo. La straccia dei ninja che sono scopo è vero, ma scopo di scopo è ancora più peggio. L'unico, abbiamo una copia. Possiamo usare la scopo per investigare tutte le locazioni di scopo. Katosuke, guardate il labo con la squadra di scopo per leggi. Sì, signor. Questo è vero. Io sono giochi con le d'unico! Sì, signor. Si... Sì. 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 Are you? Sì. No. Sì. È che... Sì. Leeds? Hai parlato del gioco NINJA HEROES? Stavamo parlando di giocare insieme Cosa? Hai anche NINJA HEROES? Finalmente ho avuto l'ultimo Penso che ci rende un po' più esperienze che tu Inoltre? Penso che tu mi ha messo Se hai anche, vuoi iniziare a giocare insieme? Si, ho pensato di contattarsi con voi Cosa? Siamo in front of the mission information desk Cosa? Sto facendo la tua guidanza, mister expert See you later, noob Ok, ora show Shikadai and the others How good I can play Let the games begin Inoltre? I... I don't even know what Shikadai and the others look like here No choice Hey Shikadai, are you here?! Idiot, don't yell out my real name here Look it was our fault for not letting him know what we were gonna look like Sì, questo è Shikadai e Inojin. Sì. Hmm, Shikadai sembrava come Gaara. Sì, diciamo, siamo rilassati. È abbastanza bello, certo? Quindi, come sei che sei, Inojin? Eh? Non mi sembra bello? Sì, pensi che? Non hai un'artistica sensazione, Boruto. Come on, who cares about what we look like? Let's get started already. We already accepted a mission, and we can get started on that right away, if you're okay with that, Boruto. Thanks. Guess I'll take a crack at this. Okay. Okay, quindi loro hanno scelto quello e io vado di... Dov'è? Il mio preferito. Ishi sui. Minato. Ma dov'è Sasuke? Dov'è? Qui non c'è Sasuke, però. Ah, eccolo. Oh. Per zamuda. Oh. Follow me. Oh. 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 è un gioco c'è lì chắc chắn dù lo bò ánh hưởng chú tù là bò cú tù đòi dù tù chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắc There you are! Too slow. Too slow. You're not going well. The way I'm playing with you guys is a blast. Let's go. Flame Control Planetary Devastation. E' la madonna però Ma sono bellissime le tecniche qua Mi hanno preso A Sì, essere così diverso da la reale è quello che rende divertente E, per esempio, come hai già già iniziato a giocare questo game, Boruto? È perché si è popolare? Sì, sono facendo la campagna dove puoi prendere il mio padre Himawari davvero vuole questo Oh, quella cosa che stanno lavorando sui commerciali Ma non c'è nessuna informazione sui che non c'è C'è qualcosa di annuncio di più tardi? Sì, ma cosa faccio adesso? Ho iniziato a giocare questo game per la NECKLACE Ci sono più persone Sì, probabilmente è più di più compared a quando abbiamo iniziato Oh NANASHI! You again? I heard there's no information about the NECKLACE CAMPAIGN yet I want that NECKLACE, so what do I gotta do? I don't know, I'm just an event guide I'm not in charge of campaigns So, I just have to wait until they update the information? Basically So, we're done here? Wait a minute What? You can pester me all you want about the campaign But I still don't know anything No, that's fine Did you see what I just did? What? That combo attack was pretty impressive, right? I think I got the hang of dodging too No, I didn't see you I mean, why would I? Come on, I was kicking butt out there Why is he so friendly with the guide character? Her reactions are different from when we talked to her Isn't she being controlled by a computer? So she changes her attitude depending on who talks to her? That's some pretty impressive tech Or maybe someone is controlling her behind the scenes Yeah, I guess that's plausible Sorry, I just ran into someone I know Someone you know? We're heading back soon Already? We've got a night mission in the real world It's a pain, but we gotta go get ready for that I see Well, I guess that makes sense then Good luck Bye now It's fun playing games with people you know I'll reopen Mitsuki and Sarada next Maybe I've been playing too long Mom, food please Ok, let's see Ah, ok Abbiamo preso poco Va bene Andiamo a vedere cosa fa il prossimo episodio Going far for your mission today? Yeah, it's close enough for a day trip though Be careful See you later See you when I get back Ok, you're here Team 7 will be heading into the northwest region of the Land of Fire for an investigative mission It's a small part of a large forest Why are we going there? According to the report, there's an abnormality in part of the forest Abnormality? The report mentioned a landslide Our mission is to check the scene and investigate its cause There probably won't be any danger of battle, but keep your guards up Right What is this? Is this the spot? Yes, but this is worse than I imagined Konohamaru sensei, where do you want us to go? There's a village nearby Sarada and I will head there to gather intel Boruto, Mitsuki I want you two to search this area and see if you can find anything that could have caused this Got it Got it Hmm How's it going over there, Mitsuki? Nothing I tried all I could Then all we managed to figure out was that it was caused by someone Yes, and clearly only part of the forest has been destroyed It wouldn't look like this if it were a natural disaster Who would do this? Sorry I'm late Hey, how'd it go? We asked around The incident occurred three days ago late at night A loud crash was heard from deep inside the forest And the tremors reached all the way to the village So when they came by the next day, this is what they saw Even the residents don't know what caused it Actually, we heard something pretty interesting A number of residents said they saw a glowing giant through the treetops A glowing giant? Hmm Hearing that makes me think of Sasuke for some reason Yeah, Susano I don't think dad would do this for no reason That's true Hmm Let's forget the giant for a minute Our own investigations found that this destruction was caused by a human I see Now we just have to figure out who did it and why Let's return to the village and give our report for now It'll be better to leave it to an expert rather than investigate this any further on our own What happened? Someone destroyed it We'll need more details on this incident Yes I'll send an inspection team This incident should be thoroughly investigated Dad, do you have any idea what the glowing giant is? Does it have to do with Sasuke or something? Did you hear anything about Sasuke being there? Nothing in the reports So we can't be certain about anything right now Hmm We'll check things out And if we find anything, we'll let you know Good work today Take the rest of the day off Yes, sir What could it be? Oh, so I guess that caught your attention Well, it was just a test Investigating it is useless Oh, so I guess that caught your attention Giocatori ninja troppo guadagnato Zabuza Momochi Kakashatai Ok Molto Bene, ragazzi Io direi che per oggi possa essere tutto La prossima volta Ripartiremo da qui Io, come sempre Vi invito a lasciare un bel like A commentare Condividere Iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E Alla prossima Ciao belli